Assessore, oggi ho la presentazione del progetto di fundraising del Comune di Genova. Come saranno raccolte queste risorse e quali saranno le aree di intervento a cui questi fondi saranno destinati? Intanto ringrazio la dirigente, la dottoressa Pesce e tutto il team dello sviluppo economico, perché è veramente un grande team che lavora per raccogliere fondi, sia europei che anche da fondazioni private, penso a San Paolo e la Banca Carige che ci aiutano per fare questi progetti che sostanzialmente hanno tre direttive, la parte green, la mobilità e anche i servizi per il cittadino, proprio perché ci teniamo che il cittadino sia proprio al centro anche di quelli che sono i progetti europei applicati poi sulla città di Genova. Abbiamo messo in piedi 29 progetti che poi verranno dettagliati dopo in conferenza stampa che sono su questi tre macro obiettivi. Stanno andando molto bene, abbiamo già avuto diverse cose attuate come pensiamo all'ex Palazzo dell'Abbondanza dove c'è il Blue District che sarà proprio, ed è un contenitore anche di idee, di start-up, la sede dell'Ocean Race, cioè insomma vogliamo veramente creare Genova proprio che sia un polo anche di innovazione, anche sul digitale su cui c'è anche lì diversi progetti, ci sono diversi progetti che miglioreranno la digitalizzazione che è il futuro e quindi non possiamo naturalmente non stare al passo con i tempi. Da punto di vista delle cifre avete degli obiettivi, delle soglie che vi siete fissati per dichiarare il successo del progetto? Diciamo che i progetti che sono stati finanziati per quanto riguarda il 2014-2020 sono arrivati tutti a compimento, poi nella conferenza vedremo nel dettaglio e ancora faremo tanto in quello che sarà dal 21 al 27 che c'è di nuovo un grande lavoro degli uffici che stanno appunto portando avanti tutti questi progetti anche sulla mobilità elettrica, sul servizio al cittadino, sulla digitalizzazione e quant'altro. I progetti che la pubblica amministrazione sta portando avanti perseguono delle iniziative che sono un richiamo da parte delle agende internazionali e soprattutto per quello che riguarda il New Green Deal della Commissione Europea in merito ad una trasformazione urbana che punta a migliorare le condizioni di vita e di qualità chiaramente dell'ambiente urbano per i suoi cittadini. Da un lato si lavora per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione, della macchina amministrativa che sta dietro a tutte le iniziative che poi le persone possono toccare con mano in città e dall'altro si dà risalto a tutti quei progetti di transizione verso un'economia circolare, verso una migliore disponibilità di risorse senza depauperarle per le generazioni future e per tutti quelli che sono iniziative di mobilità green, ad esempio, di sostenibilità nei processi digitali dell'ente per far sì che il carbon footprint della nostra città sia sempre minore e per poter aderire alle iniziative dell'agenda 2030 e del New Green Deal che prevede una decarbonizzazione e spinta dell'economia di ogni città nel 2050. Ci può fare un esempio dei progetti in cantiere su questo capitolo della conversione ecologica? Assolutamente. Tutte le azioni dell'ente di fatto riguardano i grandi temi di cui poi si tratterà nella conferenza stampa, che sono sposati a livello di mobilità sostenibile e questo è un primo esempio che vi posso fare. Anche grazie alla pressione dovuta al Covid, la città ha investito nell'istituire delle bike lane e quindi ha dato la possibilità di incrementare i 15 chilometri previsti di mobilità sostenibile, micromobilità e mobilità assolutamente a basso impatto, fino a 30 sui 150 che sono previsti. E questo significa semplicemente che a volte anche grazie a pressioni esterne la città risponde non solo in maniera proattiva, ma da luogo e vita a delle iniziative programmatiche che erano previste in tempi un po' più lunghi. Questo è un esempio classico. Altri esempi invece li possiamo ritrovare nei grandi progetti di rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è il tema portante che noi ci troveremo ad affrontare nel prossimo periodo e questa si compone di grandi progetti come il Master Plan della Valpolcevera, o la rigenerazione urbana del centro storico, ma soprattutto di piccoli progetti a scala di quartiere dove una singola piazza, uno spazio pubblico possono essere rigenerati e resi non solo dal punto di vista tecnologico più sostenibili per la popolazione, ma soprattutto per la quantità di verde di cui abbiamo così tanta fame in questo periodo perché ci restituisce una qualità della vita più alta. Il Comune di Genova partecipa da anni a progetti europei. Io in particolare mi occupo con il mio ufficio di progetti a gestione diretta, quindi quelli che sono direttamente mediati con la Commissione europea. Sono progetti che noi portiamo avanti da tanto tempo, ne abbiamo molti anche in corso. Sono tutti progetti che mirano a testare soluzioni innovative per rispondere ai reali bisogni dei cittadini, per trovare soluzioni che possano migliorare la qualità di vita dei cittadini, ovviamente tenendo sempre presente la bussola di quello che viene richiesto dalla Commissione europea, per cui in particolare ci focalizziamo in questi anni su mobilità elettrica o comunque che possa in qualche modo migliorare la qualità dell'aria. Quindi anche la parte ambientale ha una grande importanza, come ricordava anche prima la collega. Siamo su progetti anche più di rigenerazione urbana, che possano portare un miglioramento della qualità della vita e anche che sostengano lo sviluppo economico della città. Per partecipare ai progetti europei è necessario comunque avere sempre un partenariato, che spesso vede presenti partner sia a livello locale, che possono essere aziende o università, e partner invece internazionali, che anche in questo caso sono spesso grosse società di consulenza, altre università o società. Il partenariato in sé, oltre ai risultati del progetto, che sono nella maggior parte dei casi, ovviamente risultati tangibili anche per il cittadino, porta conoscenza, aumenta ovviamente il numero dei soggetti con cui noi possiamo fare networking e tutto ciò porta conoscenza nuova e possibilità di sfruttare queste relazioni per ulteriori progetti futuri.